Claudio Baldi sta per cominciare la stagione dell'Atletica Leggera, però già ha cominciato con le prime gare dei cross, avete già ottenuto diversi piazzamenti e ottimi risultati? Sì, infatti come consuetudine nel mese di gennaio è dedicato all'inizio della stagione del cross e alle prime indoor. Sia nelle indoor che nei cross si sono già avuti ottimi risultati, soprattutto nella fase che riguardava i campionati regionali indoor abbiamo avuto diverse buone prestazioni proprio dal nostro gruppo di velocisti, gruppo di velocisti forse anomalo chiamarlo così perché eccellono tutti nella velocità però poi si sono specializzati in specialità un po' diverse fra loro, nelle quali però è importante avere una buona base di velocità. hanno avuto importanti piazzamenti ai campionati regionali e hanno ottenuto soprattutto, e quello è importante, tutto il proprio record personale e questo è di buon auspicio anche per il proseguimento di tutta la stagione all'aperto. Nei cross invece abbiamo avuto le solite fasi di qualificazioni e poi l'ultima gara dove ancora non vi abbiamo mandato il reso conto sono i campionati provinciali di Roma in cui abbiamo ottenuto diversi primi posti e diversi poti quindi siamo abbastanza soddisfatti di come è iniziato i primi due mesi dell'attività 2015. Siamo con i velocisti della Tirena Atletica, presentiamo i ragazzi bianco celesti. Allora, velocisti come ha detto Claudio è un nome un po' anomalo anche se comunque riusciamo a specializzarci e ottenere buoni risultati anche nella velocità. Io in particolare sono Carlo Granzinig, mi sono specializzato nelle prove multiple che è una specialità abbastanza particolare che richiede abbastanza prestanza in tutte le discipline sia dalla velocità agli ostacoli e anche ai salti e ai lanci. Io sono Lorenzo Patanè e sono l'ostacolista del gruppo. Io in questa Indora di gennaio ho esordito per la prima volta con i 60 ostacoli da un metro e invece nelle gare outdoor faccio i 400 ostacoli e proprio qualche tempo fa ero riuscito a fare il mio personale di scendere sotto il minuto e prendere il record societario. Io sono invece Andrea Flaccalento, sono il saltatore in alto della società e anche un velocista. In questi campionati ho partecipato alle gare del salti in alto dove lì ho fatto il record cittadino, un metro 86, dopo 35 anni che stava in vigore. Invece sui 60 ho partecipato anche a quelle gare, il record era 7.41 se non mi sbaglio. Sono soddisfatto e ringrazio anche il mio allenatore, nonché mio padre, che appunto mi ha sostenuto per le gare di salto in alto, che appunto è il mio allenatore. Io sono Marco Zeroli e ho esordito per la prima volta in delle gare indoor e ho fatto gare di 60 metri a Roma e a Formia, dove a Formia sono riuscito a migliorarmi facendo 7.46 dopo il 7.51 di Roma e sono riuscito ad arrivare terzo nel meeting di Formia. Sono molto contento perché è da poco che faccio atletica e devo ringraziare soprattutto Claudio, il nostro allenatore, perché è grazie a lui che comunque ho ottenuto dei buoni risultati.